Siamo a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, almeno il primo step di lavoro per questa idea di città rinnovata. Il Campo Largo Progressista, attraverso la mia candidatura a Sindaca di Foggia, propone un programma liricco, articolato, che ha come obiettivo la rigenerazione di questa città da tutti i punti di vista, culturale, morale, urbanistico, sociale, architettonico, commerciale, industriale. La nostra è una proposta corroborata da fatti ed è una proposta che giunge dopo una storia infelice di sospensione dell'attività amministrativa e di chiusura della nostra casa comunale per infiltrazioni mafiose. Noi non c'eravamo, vogliamo essere da un'altra parte, ma vogliamo essere presentissimi per questa nuova pagina di storia che si va a scrivere da adesso in poi.